Il castello è nella piena fruibilità dell'amministrazione, siamo contentissimi della ristrutturazione, il fatto che questa struttura si metterà a disposizione della collettività, ma non solo, abbiamo già parlato con la sovrintendenza nei giorni scorsi e qui avremo i reperti archeologici, quindi parte dei nostri reperti trovati in zona e quindi darà lustro al territorio, porteremo turismo, se tutto va bene, ma sarà anche il punto di riferimento per tantissime altre iniziative da parte dell'amministrazione sociale sul piano culturale, sul piano turistico, quindi ci attiveremo subito nel reperire finanziamente tutte le iniziative immaginabili possibili. La vitabilità si è espressa già nella formazione di questo cartellone dell'estate leporanese, ma continuerà ad esprimersi perché funzione e volontà primaria di questa amministrazione è quella di continuare a collaborare al massimo con le associazioni anche in periodi che non sono prettamente collessivo, proprio perché l'associazione rappresenta il primo collante tra il territorio e le sue bellezze e quella che è l'evolversi dell'attività amministrativa. Abbiamo considerato proprio questa opportunità di donare alla nostra leporano una rassegna estiva anche quest'anno, solo in 50 giorni, con la nostra elezione, con il sindaco e l'avvocato Angelo D'Abramo, abbiamo voluto proprio portare avanti questo cartellone. Ci siamo riusciti, ci sono 40 appuntamenti dove ci sono appuntamenti di musica, tradizione, teatro ma anche sport. È un cartellone che soddisfa tutti i gusti della popolazione, ma anche dei turisti che verranno qui a Leporano a trascorrere le loro vacanze. Noi abbiamo, dal 1 agosto, i festeggiamenti in onore del Santo Patron, il 3 abbiamo un concerto dei Camaleonti, ma poi abbiamo tanta musica classica e soprattutto tante sagre, sagre che vanno a valorizzare le tradizioni della nostra Leporano. È un appuntamento da non dimenticare, è il 20 con Donna dei Due Mari, dove c'è un premio alle donne e alle imprenditori, ma donne del territorio che si sono distinte e contraddistinte.